Ma il suo pensiero sì. Ascoltai mio figlio attraverso il mezzo flora. Fu la fugacità di un minuto, seppure immenso. Non era la sua voce, ma il suo pensiero sì. Si impresse nelle mie orecchie come una calda ninna nanna. Mi disse cose che sapevamo soltanto lui ed io. Poi rifiombai ancora sola e stanca con la mia carne nell'ingranaggio immane della vita senza mio figlio. Commento con il massimo rispetto per il tuo dolore. Che cosa ti aspettavi dalla bassa condizione umana? Grazie.